Oggi siamo stati alla Sinibus, un'azienda che si occupa della vendita e della costruzione di autobus e pullman, curandone la manutenzione e la vendita dei pezzi di ricambio. Questa giornata per voi potrebbe essere una giornata molto interessante perché se quando io andavo a scuola, perché anche questo è successo molto tempo fa, una delle cose che desideravo che succedesse è oltre alla scuola andare a vedere quello che succedeva fuori dalla scuola. Abbiamo visitato anche il magazzino di Cambi e lo studio dell'avvocato Maniscalco. Tra gli impiegati il numero delle donne è pressoché pari al numero degli uomini. Dopo 56 anni lei è pensionata, ma ogni mattina è ancora qua, più buona, e ci dà un aiuto assolutamente prezioso. Le imprese sono quel posto dove volontà, intelligenza, capacità, innovazione, invenzione si estrinsecano per realizzare una cosa che si chiama da un lato guadagno e dall'altro affermazione personale. L'ultimo prodotto che è stato inventato è un autobus di alta tecnologia ai 35 posti che è stata chiamata Archimede. Allora è un virgolo molto innovativo ed è lungo 13 metri, che ne sono venduti tanti di tutta Palermo, ma soprattutto alla notte. Lavorare e praticare per fare in modo che questa azienda vada bene e dia da mangiare a tante famiglie, per voi significa studiare bene e prepararvi a diventare quello che nella vita vorrete diventare. Questa giornata è stata molto utile per capire le tante sfaccettature di un'importante azienda, dove in futuro potremo anche lavorare. Il fatto che sia un'azienda siciliana è un buon esempio per tutte le altre aziende e per noi ragazzi siciliani. Grazie.